Buongiorno, apriamo il convegno dell'Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali che quest'anno ha l'onore di collaborare, di realizzare questo incontro con il Ministero dei Beni Culturali, delle attività e del turismo. Il convegno ormai è alla nostra, non mi ricordo se quinta o sesta, settima, è il nostro settimo appuntamento con il Salone del Restauro di Ferrara, quindi è una collaborazione che ormai è diventata strutturata e quindi di questo noi ringraziamo moltissimo il Salone e speriamo di dare come ogni anno un contributo qualitativo e un'aggiunta di contenuti al Salone di quest'anno. Il titolo del convegno è Musei Civici, quale futuro? La prospettiva del sistema museale nazionale. E ne parleremo col direttore generale dei musei del MIBAC, Antonio Lampis, che ringraziamo moltissimo e che ha voluto fare in modo che la nostra iniziativa e la voce del Ministero convergessero nello stesso convegno. Quindi noi siamo molto onorati di questa attenzione, di questa fiducia verso la nostra associazione che, come ricordiamo spesso, è l'associazione più antica di musei italiani, nata proprio dai musei civici nel 1952, dai direttori dei musei civici, che sentirono l'esigenza appunto di far conoscere la loro voce a livello nazionale fino ad arrivare anche ad essere coinvolti proprio nel sistema normativo di riconoscimento. Quindi questo segnale che è molto positivo e che potrà quindi dare anche sostanza ai discorsi e agli interventi che faremo oggi e che ci vede tutti impegnati appunto dalle amministrazioni di provenienza nella costruzione del nuovo sistema museale che sicuramente saprà dare una svolta, ma io ne parlerò più dettagliatamente e soprattutto con più incisività il direttore generale. E ringraziamo ancora il Ministero perché il segretario generale del MIBAC, Carla Di Francesco, doveva anche lei essere con noi stamattina per intervenire a questo convegno, ma non ha potuto partecipare ai lavori per un impegno improvviso e inderogabile. anche Giuliano Volpe che ha sempre partecipato ai nostri convegni qui al Salone del Restauro quest'anno era impegnato al Consiglio Superiore del Ministero. Dunque, quindi l'iniziativa di oggi trova ancora tra i nostri alleati il vice sindaco di Ferrara, Massimo Maisto che ogni anno ci aiuta nella realizzazione del convegno e ancora avremo al nostro tavolo l'Anci rappresentata da Vincenzo Santoro che è il responsabile del settore di cultura del Lanci che darà quindi un contributo e una visione dal punto di vista dell'Associazione Nazionale dei Comuni su questo sistema. Ancora ci sono molti, Roberto Balzani che è il presidente dell'Ibc Emilia Romagna, Davide Banzato dell'AMLI, Nadia Barrella sempre dell'AMLI, Davide Banzato è il direttore dei musei civici di Padova, Nadia Barrella invece insegna all'Università della Campania, ancora Roberto Cantagalli, dirigente della cultura del Comune di Comacchio, Alessandro Furiesi sempre dell'AMLI, del Museo di Volterra, Franco Marzatico, soprintendente dei beni culturali della provincia di Trento, Mario Scalini che è il direttore del Polo Museale Emilia Romagna che ringrazio anche lui perché ogni anno ci onora del suo contributo e poi Anna Maria Visser che veramente ringrazio di cuore perché è il motore di questo appuntamento e di tutti e sette gli appuntamenti e di questo in particolare perché io con i nuovi impegni così lavorativi e professionali posso occuparmi un po' di meno appunto delle nostre organizzazioni che come sapete sono sempre a livello solo di volontariato e quindi insomma lei ci dà una grassa mano con tutte le persone intorno che citerà lei sicuramente e ringrazierà lei di cuore. Oggi oltre a parlare appunto dei musei e del sistema è un momento anche molto importante per la nostra associazione, un momento storico direi perché stamattina firmeremo col direttore generale dei musei del MIBAC Antonio Lampis l'accordo di collaborazione tra l'associazione e il ministero. È un accordo che abbiamo qui che firmeremo solennemente di fronte a tutti che lascio la parola lascio la parola al dottor Antonio Lampis grazie Allora grazie a Maria Montaldo io direi che allora noi firmiamo questo accordo ad inizio di mattinata in modo che diciamo la parte ufficiale ce la togliamo velocemente ed è un accordo insomma che ha impegnato i nostri uffici soprattutto il servizio secondo che segue da sempre le reti museali ma che oggi con questa partenza del sistema nazionale dei musei è particolarmente impegnato nel futuro che cercherò di raccontarvi in poco tempo insieme alla collega. La firma credo che sia un momento importante perché anche le commissioni di accreditamento sulla base dei livelli di qualità minimi appena approvati vedranno la partecipazione delle associazioni che hanno appunto una convenzione con la direzione generale musei e questo è un accordo che integra questa collaborazione come è storica la collaborazione con ICOM è storica la collaborazione con le regioni e con ANCI che appunto hanno partecipato nei lunghi anni nei tre anni di redazione dei livelli minimi di qualità. Oggi il sistema nazionale dei musei è un passo molto di avanguardia credo per la nazione è un passo che va oltre al sistema di accreditamento che ne ha appena una premessa non voglio mai che si confonda il sistema nazionale con un sistema di diciamo di ingresso o di espulsione tu sì o tu no insomma vedremo dopo che non è di questo che parliamo però oggi sono molto felice di essere qui con una direttrice di un museo importante di grande qualità che da sempre ha seguito un'associazione importantissima per l'Italia perché poi sappiamo che il numero maggiore dei musei in Italia sono i musei civici e sono i musei che fanno capo agli enti territoriali e quindi questa associazione è stata un pioniere nel tentativo in defesso direi di creare una rete e per noi è raggiunto il momento di riconoscere questo questo grande ruolo pionieristico in Italia questa presenza capillare molto importante in questo momento e di questo racconta questo accordo che adesso io sottopongo alla firma della vostra presidente così la parte ufficiale la svolgiamo in questo modo davanti a tutti abbiamo la seconda coppia che poi eccola qui e consegno subito queste due coppie al dottor Lattanzi che è un po' il padre di tutte le convenzioni grazie a voi io sono noto per perdermi le carte quindi grazie allora auguri davvero di una collaborazione proficua adesso io se sei d'accordo farò il mio intervento raccontando che cosa è successo di nuovo in questo in questo periodo che ha portato appunto al decreto del 21 febbraio il numero 113 è un bel numero è la targa della macchina di Topolino il decreto del ministro ha approvato dopo tre anni di lavoro i livelli minimi di qualità per i musei che sostituiscono quelli del 2001 ha dato avvio al sistema nazionale dei musei per il quale il direttore generale dei musei dovrà fare nelle prossime settimane una normativa di organizzazione e funzionamento di questo sistema e quindi io oggi vi anticipo come intendo svolgere questo arduo devo dire compito molto molto ambizioso e quali sono i contorni di questa di questa attività allora comincerei dai livelli di qualità rispetto a quelli del 2001 che furono comunque per l'Italia un grande punto di svolta anche a livello internazionale furono studiati dovunque ma comunque erano figli del loro tempo cioè degli anni 90 molto pesanti erano un tomo insomma impegnativo oggi i livelli minimi di qualità dei musei sono questo e quindi sono diciamo un percorso di crescita come lo intendo sostenibile e anche attuale veramente veramente attuale e perché è così importante la messa sistema dei musei io quando ho preso diciamo questo incarico a settembre del 2017 quindi sono pochi mesi mi sono trovato a dover raccontare la intuizione più felice della riforma dei musei che è appunto il sistema nazionale dei musei in pubblico e ho riflettuto nel collegarla con la decisione della commissione europea che nel maggio del 2017 ha dato avvio all'anno europeo del patrimonio perché questa decisione che per chi ama le carte insomma è del 17 maggio la numero 864 sottolinea che il patrimonio culturale e artistico che in gran parte o in buona parte era chiuso nei nostri musei è sottovalutato per le diciamo per le esternalità positive che potrebbe dare per lo sviluppo sociale lo sviluppo spirituale e culturale per l'occupazione soprattutto giovanile e femminile e per lo sviluppo economico dei territori essere sottovalutato significa che ha bisogno di maggiori attenzioni e per avere maggiore attenzione questa decisione dice che questo contributo potrà diciamo emergere nella sua visibilità solo se sarà affidato ad una governance sostenibile la sua la gestione sostenibile è diciamo la parola d'ordine di questa decisione e per avere una gestione sostenibile occorre dice sempre questa decisione una governance partecipativa una governance multilivello fra i diversi portatori di interesse ed una cooperazione intersettoriale rafforzata beh questa è molto la descrizione del sistema nazionale dei musei ed è quello che vorrei fare insomma cioè è un sistema pensato per far lavorare insieme lo Stato le regioni i comuni gli altri enti locali le università soprattutto il sistema di formazione perché in questo momento anche l'ho detto ieri sia verso i nostri cittadini e le persone che vivono sul nostro territorio che non tutti sono cittadini e sia verso la comunità internazionale io credo che la messa a rete la messa a sistema degli quasi 8.000 musei italiani costituisca un forte rafforzamento del patrimonio culturale e del anche pensando al range turistico che può offrire l'Italia nella competizione internazionale voi sapete meglio di me che l'Italia non ha mai fatto la scelta del grande museo nazionale non abbiamo né Louvre né Prado ma abbiamo appunto oggi da offrire alla competizione internazionale e anche alla suggestione delle persone che ci vivono accanto e non solo degli ospiti appunto 8.000 musei messi a sistema io credo che questo porterà l'Italia ad avere un ruolo molto più interessante e molto più diciamo meglio valutato nella competitività internazionale turistica ma anche in quella in quel processo verso la non sottovalutazione del patrimonio che ci serve anche nei confronti dei nostri finanziatori della politica che fa le scelte io lavoro da una vita vengo dalla provincia di Bolzano dove per vent'anni ho fatto il dirigente del settore cultura con un obiettivo di della welfareizzazione della cultura cioè di porre teatri biblioteche e musei ad un livello di apprezzamento sociale e pubblico pari a quello del welfare dicevo sempre se chiudo il teatro di periferia che faticosamente ho creato o il museo che faticosamente ho fatto crescere mi aspetto che la gente protesti come se chiudesse un ambulatorio ecco credo che siamo già vicini a questa situazione questo processo di welfareizzazione è c'è stato significa che rispetto alla politica e ai decision maker a chi indirizza le risorse questo appello dell'Unione Europea a dire il patrimonio artistico è sottovalutato forse può essere raccolto può essere raccolto non per diciamo mecenatismo ma nella consapevolezza che l'investimento nei nostri musei comporta incassi comporta possibilità di lavoro per quella gioventù che è stata tradita dagli ultimi 15 anni di economia e che comunque ostinatamente devo dire ostinatamente guardando i dati di iscrizione dell'università di storia dell'arte di archeologia e degli studi umanistici ostinatamente ha scelto di studiare il patrimonio artistico e si aspetta giustamente oggi di avere delle occasioni di occupazione non si tratta di fare attività diciamo di assistenzialismo si tratta di fare investimenti oculati e come ho cercato di far capire al ministero dell'economia ogni occhio di riguardo verso il sistema museale significa entrate per lo Stato quindi questo sistema museale avrà bisogno di una radicale sburocratizzazione perché è allucinante il modo con cui le amministrazioni pubbliche assumono gestiscono il personale lo mandano in pensione con cui spendono i denari per spendere mille euro ciò occorrono due settimane di lavoro è incredibile però diciamo la mano pubblica deve essere confortata dal fatto che incredibilmente è successo in questi anni noi chiudiamo il 2017 con 200 milioni di euro di incassi nel sistema museale statale solo pochi anni fa erano meno della metà quindi questo significa perché se esaminiamo i dati non sono solo i turisti che non vanno nel Medio Oriente non è per nulla così sono tanti nostri concittadini che hanno messo mano al portafoglio facendo un gesto che gli economisti individuano come quella preferenza individuale che significa credito di fiducia mai nella storia c'è stato un credito di fiducia così forte delle persone nei confronti dei musei è certo che questa riforma ha aiutato la riforma che ha in qualche modo operato top down non potendosi forse inventare altre vie di riforma in Italia se non questa quindi ha investito nello stipendio dei dirigenti che devo dire che in questi anni hanno lavorato togliendosi il fiato insomma perché non avevano struttura non avevano staff non avevano neppure una normativa adeguata per fare un museo moderno ma che oggi pian piano questo staff sta arrivando anche se in ritardo si stanno muovendo molte cose per questo è così importante diciamo e trovo che sia l'intuizione più forte della riforma questa della messa sistema dei musei intanto perché il sistema nazionale significa un sistema non legato al concetto di proprietà non legato a impostazioni gerarchiche è un sistema che non è fondato sull'appartenenza ma sul collegamento e questo significa interpretare i livelli minimi di qualità non come una porta tu sei dentro e tu sei fuori ma come un percorso per cui chi si accredita inizia un percorso di crescita ed è un percorso di crescita devo dire talmente ben accompagnato da questo sistema di livello minimo e livello di miglioramento che nel momento in cui si legge questo manualetto ci si guarda dentro e questo percorso di crescita quasi scaturisce in forma maieutica solamente dal guardarsi appunto al proprio interno e nel sistema di autovalutazione che sarà la base dell'accreditamento quindi io invito qualunque direttore di museo sia qui presente a cominciare a leggerlo e a darsi un punteggio noi organizzeremo il sistema di accreditamento col punteggio della pagella di scuola il museo perfetto prende 10 e forse non esiste ma col 5 e mezzo già 6 dentro insomma abbiamo simulato che i musei statali forse raggiungono il 6,8 6,9 che per un genitore con un figlio alle medie insomma la media del 7 va anche bene insomma ma vogliamo tutti quanti migliorare questo è un sistema di miglioramento esattamente come il sistema di trip advisor con i ristoranti qualunque ristorante che ha il punteggio di 5 lo espone sulla porta lo stesso perché il cliente sa che da 5 quel ristorante è impegnato a crescere e non si vergogna del suo 5 ecco noi incominceremo con quello che siamo con le mille difficoltà che i musei hanno avuto in questi anni e di cui il ministero è pienamente consapevole perché prima di tutto riguardano le sue strutture però questo sistema nazionale si dovrà fondare come un protocollo di internet inizialmente su come dice l'Unione Europea su una gestione sostenibile quindi innanzitutto sul censimento e ogni associazione ci aiuterà ad aggiornare i database aggiornare i nomi e cognomi dei musei e dei direttori o anche previsto per la fine dell'anno il primo incontro di chiunque abbia scritto direttore di museo nel proprio biglietto da visita quindi un incontro di tutti i direttori di musei italiani questo coinvolge anche un cambiamento in un'altra istituzione che è stato perno della riforma che è quella del polo museale il polo museale sta mutando diciamo il proprio ruolo sottolineando il ruolo di facilitatore territoriale di interfaccia territoriale con la regione con i comuni con le istituzioni sta mutando la propria governance dando sempre maggiore autonomia ai direttori dei musei anche se non sono dirigenti se si chiamano direttori devono dirigere qualcosa e in questo processo insomma sono molto impegnati i dirigenti dei poli che sono stati da qualche giorno tutti confermati al loro posto proprio perché questo impegno è veramente appena partito ma è molto importante il decreto del ministro prevede una commissione a nomina ministeriale che seguirà le procedure di accreditamento le procedure di accreditamento saranno tutto il funzionamento e l'organizzazione del sistema sarà regolato da un decreto appunto che io dovrò scrivere nei prossimi giorni credo che oggi sia registrato alla corte dei conti il decreto ministeriale che approva i livelli minimi di qualità l'accreditamento sarà su base di piattaforma perché comunque il collegamento dei musei avrà bisogno di un impegno sul digitale molto pesante molto forte perché appunto io dico è l'aria è l'acqua il cielo su cui ci si può incontrare facilmente senza spese oggi anche tra i musei statali e la mia direzione generale ogni collegamento avviene con gli allegati all'email che insomma è un po' un modo da superare quindi creeremo una piattaforma di accreditamento i musei si accreditano autovalutandosi uscirà automaticamente il punteggio la commissione avrà anche la possibilità di mettere dei correttivi abbiamo discusso dei possibili correttivi in tante realtà quindi ragioneremo anche con questa associazione sicuramente il contesto difficile sicuramente il museo col personale felice ci sono alcuni indicatori di qualità che non sono scritti nei criteri ma sarà bene tenere presente alcuni musei agiscono veramente in un contesto difficilissimo e molti di voi lo sanno lo sanno bene il museo ha cambiato la sua pelle insomma avendo incontrato così tanto entusiasmo partecipativo improvvisamente da larghe fasce sociali probabilmente è venuto meno da alcuni suoi compiti storici ma ne ha inventati molti 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 di nuovi e impensabili fino a qualche decennio fa e quindi su questo occorre tenere un occhio franco e attento diciamo qual è il vantaggio della messa a rete la messa a rete dei musei potrà avere diciamo successo e sviluppo e sviluppo non solo per i riflessi che vi ho accennato prima sulla competitività internazionale dell'Italia di poter mettere sul piatto delle offerte una rete museale e non solo una rete così che non ha un effettivo collegamento ma il vantaggio sicuramente sarà quello di accompagnare il collegamento museale il censimento museale da un lavoro di formazione comune per quanto possibile comune che questa nazione è ora che intraprenda cioè io dico che si è che si collabora quando si leggono gli stessi libri e quindi lavorare sulla formazione degli operatori sarà la grandissima sfida dei prossimi anni in questo abbiamo un appoggio da una direzione generale dello stesso MIVAC che si occupa di formazione e ricerca abbiamo da reinventare e da intensificare il lavoro delle università perché attraverso la formazione occorre raggiungere un altro risultato che sta dentro il concetto di gestione sostenibile cioè quella di rendere i nostri musei adeguati al nostro tempo i nostri musei oggi parlano un linguaggio che è completamente scollato rispetto a tanta parte delle giovani generazioni e a tanta parte del mondo tradizionalmente escluso dai consumi culturali ai consumi culturali voi sapete partecipa più o meno stabilmente una signora cinquantenne insomma che probabilmente è figlia di due laureati questo è statisticamente il consumo culturale tradizionale noi dobbiamo arrivare a una generalità della popolazione quindi non solo ai figli dei laureati dobbiamo arrivare a catturare l'attenzione nei musei più piccoli e nei musei fuori dai blockbuster e dalle città assediate dal turismo il turismo più interessante cioè quello che può fare una svolta nel capire che non è importante in Italia vedere solo gli uffizi e galleria borghese e che invece la ricchezza dell'Italia come nella gastronomia come in tanti altri aspetti sta nei piccoli nei piccoli luoghi la messa al sistema deve aiutare questo deve coinvolgere soprattutto le giovani generazioni che oggi hanno nella testa delle modalità di catalogazione del sapere completamente diverse da quelle a cui noi siamo stati abituati le generazioni più giovani dai due anni in poi gestiscono una complessità di informazioni che al nostro tempo era impensabile e hanno per il tipo di informazioni che sono abituati a gestire un'aspettativa di evoluzione di quello che vedono costante le nostre opere d'arte sono statiche quelle che deve diventare evolutivo è il racconto noi dobbiamo rivoluzionare il racconto dei nostri musei e questo significa appunto con un sistema che ti potrà dare la possibilità di controllare al meglio le best practices io oggi qui a Ferrara ne ho visto uno al museo ebraico è un museo veramente da prendere per esempio molti di voi l'hanno visto ieri per quanto riguarda gli allestimenti cioè noi dobbiamo veramente ripensare gli allestimenti perché devono parlare a chi oggi si aspetta un racconto molto più partecipato molto più penetrante che racconti e faccia capire veramente non semplicemente che esponga degli oggetti dobbiamo passare dagli oggetti alle relazioni e questo significa magari esporre qualche oggetto in meno a raccontare di più questo significa raccontare con un linguaggio che sia veramente capace di infilarsi nella testa di generazioni di cui noi già ancora conosciamo molto poco per quanto riguarda il funzionamento dei processi cognitivi per questo mettere a sistema le banche dati fare dei va-de-be-come operativi lavorare sulla formazione sarà l'obiettivo l'obiettivo di questo di questo sistema e l'altra parte importante è quella comunque di incontrarsi di incontrarsi spesso noi abbiamo istituito una collana di incontri al planetario delle termine di Diocleziano dove ogni due mesi tre direttori di musei o forse un domani anche più di tre si presenteranno non sono certo solo i direttori dei musei statali ma sempre abbiamo un museo locale un museo privato molto interessante sarà anche connettersi con il grande patrimonio e le grandi collezioni dei musei diocesani insomma la sfida di questo sistema è particolarmente ambiziosa ma è a mio modo di vedere necessaria perché è il momento di cavalcare questa incredibile fortuna che i musei stanno vivendo in questi ultimi anni è il momento di cavalcare questo credito di fiducia delle persone ed è l'unico modo mettersi a sistema studiare di nuovo ricollocarsi avere una reale collaborazione interistituzionale cominciando dalle componenti della nazione regione province comuni è evidente perché questo è quello che ci consentirà anche di andare dalla politica per chiedere dei finanziamenti adeguati per questa sfida finanziamenti che si giustificano molto di più in questi anni per il ritorno non solo per gli incassi ma anche per gli altri riflessi di ritorno di investimento che i musei hanno se voi vedrete quello che scriveremo nel nostro decreto di organizzazione e funzionamento del sistema e nell'attribuire il punteggio ai livelli di qualità un punteggio fondamentale sarà dato a chi è capace di fare seria rendicontazione sociale è importantissimo per esempio l'esempio dei musei civici di Firenze che si sono riuniti e hanno elaborato per primi lo SROI il Social Return of Investment cioè lo studio del ritorno sociale dell'investimento pubblico verso quei musei in termini di crescita occupazionale economica degli incassi ma anche di crescita culturale e dell'esternalità che oggi per fortuna viene dimostrata da tutti gli studi scientifici persino nella salute dei cittadini la frequenza e il contatto con le opere d'arte è oggi una cura e comunque un'opera di enorme prevenzione fa risparmiare denari seriamente al sistema sanitario quindi insomma il calcolo serio delle esternalità sociali culturali ed economiche sarà uno dei percorsi che dovremo vivere insieme perché non siamo tanto abituati a raccontare come spendiamo i nostri soldi e che effetto hanno i soldi che spendiamo nella società però questo sarà molto molto importante ecco ed è per questo che si fa un'interconnessione dei musei non è semplicemente per l'ambizione di parlare di cose nazionali di mettere lo stato a capo di qualcosa perché in questo caso la mia provenienza resta regionale in questo caso deve essere uno sforzo di tutte le istituzioni territoriali ed è per questo che sono molto contento di presentare questi intenti che presto realizzeremo anche grazie a uno staff molto motivato che mi sta dando sostegno e a un ministero che è coinvolto insomma in questo progetto sono contento di presentarlo in anteprima con questa associazione che come ho detto è stata è stata pioniera del mettere in collegamento tanti musei adesso noi dovremmo mettere in collegamento per realizzare banche dati di buone pratiche per realizzare anche strumenti di lavoro comuni di aiuto alla comprensione anche di questa incredibile messe di norme regolamenti decreti che dobbiamo superare per poter lavorare il sistema servirà un po' anche a questo devo dire che questa associazione appunto è stata pioniera a collegare tanti musei oggi ci troviamo tutti impegnati a collegarli ancora di più ecco vi ringrazio dell'attenzione poi eventualmente anche se ci sono domande sono ancora qui a disposizione e ringrazio chi mi ha voluto ospitare grazie 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 ad Antonio Lampis credo che abbia così questa rara capacità di rendere semplici le cose complesse e mi pare che nel decreto e anche nel piano attuativo di questo decreto ci sia questa volontà molto esplicita cioè molto pragmatica di renderci di non complicare la vita a tutti noi che dentro i musei veramente abbiamo abbiamo faticato tanto e fatichiamo ancora oggi perché sappiamo bene cosa la complessità di gestire una struttura le collezioni il personale quando c'è perché poi per la maggior parte delle volte invece come si dice si fanno tutte le parti in commedia cioè dall'uscere al bigliettaio al curatore delle collezioni ecco queste io credo che il direttore generale abbia conosca bene la complessità del panorama italiano la complessità dell'ossatura museale italiana che è composta soprattutto da musei civici che hanno delle che vanno dai musei civici di Milano o Castelvecchio di Verona fino al piccolo museo del paesino del piccolo paese in Sardegna in Campania o in Sicilia quindi è davvero molto complesso io credo che appunto il ministero abbia finalmente la consapevolezza di questa complessità e finalmente abbia compreso quello che noi attendiamo da anni e non lo faccio per piageria perché voglio dire la nostra associazione combatte su queste cose da tanti 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 anni perché sappiamo che in una in un panorama così diversificato così compesi così diversi anche anche culturali di tessuto sociale e non è possibile creare un sistema se non si creano delle reti se non si creano delle buone pratiche io io penso che è proprio molto molto difficile e io credo quando ti sentivo prima a parlare della piattaforma eccetera probabilmente ci saranno dei casi in cui è necessario un tutoraggio iniziale perché ecco io la cosa che veramente mi dà fiducia è che la direzione generale sa che cosa ha davanti ecco parte da una da una dalla conoscenza di una complessità di un di un panorama veramente così diverso e così variegato credo che partendo dalla dalla conoscenza della realtà si possa davvero iniziare un processo che deve essere per forza un processo io credo che nessuno possa neanche immaginare che da oggi a domani ma anche se avessimo tutte le risorse finanziarie a disposizione non sarebbe possibile quindi saranno necessari però ecco io dico la nostra esperienza io come presidente dell'AMLI è tanti anni che mi capita di ricevere la telefonata non so da un paese della Campania ma anche del Piemonte voglio dire di tutta Italia da un piccolo paesino che dice sa noi abbiamo questa collezione vorremmo costruire un museo ma cosa dobbiamo fare cioè anche sapere avere uno strumento in mano che ti indica che cosa devi fare e quali sono gli obiettivi che devi raggiungere perché spesso non sappiamo davvero dove andare non sappiamo quale strada intraprendere non sappiamo quali sono i gradini gli step che dobbiamo raggiungere saranno sicuramente si dovrà per forza procedere per gradi sicuramente parliamo appunto di un processo di un percorso di questo dobbiamo avere tutti consapevolezza e forse dovremmo veramente tutti anche iniziare a pensare quali sono le le modalità che potrebbero aiutarci a raggiungere i vari obiettivi però già avere degli obiettivi sapere dove si può andare mi pare un momento fondamentale e penso che questo decreto che questo percorso che anche il ministero ha iniziato a fare sia la strada giusta sia comunque una strada possibile ecco una strada possibile per veramente immaginare un sistema museale nazionale e un sistema museale che sia una risorsa lo diciamo anche questo da anni io certe volte mi ascolto e ho paura di annoiarmi da sola perché è così lo diciamo veramente da anni e continuiamo a battere su queste cose però io oggi mi sento di avere più fiducia ecco di poter di poterci credere forse perché appunto alla fine insomma il fatto che la voce anche dopo tanti anni però si senta anche la voce come la nostra di proprio di un'associazione di una rete di musei di professionisti di comuni mi pare insomma che possa finalmente avere una diciamo un processo che possa iniziare un percorso all'infermato di un'associazione